Alle dei chiare, Domenico Mitidieri, sindaco di Lago Negro e candidato governatore della lista dei sindaci lucani per le prossime elezioni regionali in Basilicata. Il primo cittadino è a capo del nuovo esperimento politico costruito dagli amministratori periferici della regione che oggi rappresentano l'alternativa agli schieramenti in campo, politici che stanno definendo un manifesto elettorale e lo stesso leader ha già dato delle indicazioni sul programma, la sanità è al primo posto. Mettere mani subito al sistema sanitario, in questa riorganizzazione della sanità è necessario comunque avviare quei processi che sono stati già messi in campo ma che accusano ritardi ormai decennali e soprattutto il nostro territorio ha una sanità che deve essere necessariamente ripresa. L'esperienza amministrativa di un sindaco garantisce la possibilità di far bene anche a livello regionale. Il progetto che stiamo mettendo in gambo con il movimento dei sindaci uniti per governare la Basilicata abbiamo già ideato e progettato questo simbolo che certamente nei prossimi giorni sarà pubblicizzato e nello stesso tempo promosso tra le amministrazioni comunali. Ritengo che sia una cosa buona e giusta per il nostro territorio, per la regione Basilicata in quanto i sindaci sono i diretti interlocutori con i cittadini e quindi riescono a conoscere bene quelle che sono le necessità e i disagi che vivono oggi i cittadini lucani. Quanto agli accordi mitidieri è chiaro, i patti si stringono sulla base di intese programmatiche. Noi vogliamo coniugare un verbo comune anche con altri soggetti politici. Certamente oggi trovare la convergenza su temi quali possono essere l'etica, quali possono essere la maggiore vicinanza alle condizioni di disagio che vivono le nostre popolazioni non è semplice. Affrontare il tema del petrolio non è cosa facile. Pensare a un turismo che comunque sia fatto di prodotti turistici reali e quindi anche presenti sui territori non è facile anche da portare sui tavoli delle trattative. Oggi sprechi non ce ne possono essere.